Oh, oh cacchio, ho dimenticato una cosa. Ciao, me l'ho dimenticato la telecamera. Tanto che carica, vediamo che c'è un line. Ok. Oh, oh cacchio, ho dimenticato la telecamera. Arriba, arraga. No, porco, porco, perché non si è aggiornato? Un attimo. Abbiamo perso il fight di prima. No, ok. Ok. No, ok. 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 Die seniors? C'è un po' da sola? C'è un po' Anthea! C'è un po' di spettacolo? Tu sei il bossa, Nolby, potremmo di me. non c'è la battaglia andiamo a tutto dove si sa mai i non c'è ah come in case o cosa c'è dentro non la vedo eccola lì uno, due, tre, quattro, non è lì io sono qui, mio amore cosa c'è? io sono qui, mio amore come mundane show yourself oh, che troia che è il fantasma è il fantasma è il fantasma è il fantasma will you slay the righteous be not alarmed I bring you aid there is no aid there is only dereliction where's Antaea? what have you done with her? that was pause lady, if you hurt heart you cling to love a fool to the last there is no love there is only there is only there is only there is no need to fight Ahi a fuoco puttana! 3, 4 E' la prima andata La prima anima Ma ce l'ho strappata Oh 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 Ma ce l'ho strappata 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 No! Ancia! Puttana di merda Se lo facessi, dovrei aspettare L'Oceano ha creato un diamante da sua tristeza E poi lo scopo nel suo cuore Il peso della sua scuola ha spostato Ah, questo era solo il prologo. Eh, mi sembrava strano che parlassi così tanto e non facessi niente. Figo, figo, mi piace. Ah, gli ha dato gli anelli. E questo è il menu di start. Quindi parte da qui, ecco. Quindi chi è che ci ha richiamato il dietro? E che ci ha salvato? Ah, tu stai dormito. Chi sei? Chi è che ha salvato, che ha salvato per giorni e per giorni. Un paio, magari. Un paio? Oh, cosa ho fatto? La mia fortuna volta prima di farcici. È stata morta? Sì, è perché sei qui. E perché io sono senti a vedere. who are you i feel like we've met but i'm sure we have now i feel like i know you forever but do i you're confused it's normal you've been near killed by a nightmare you've lost your beloved and now you've a witch by your sickbed witch? witch i go by seeker find the banisher said my mistress tend him and answer any questions he asks you before you leave him be so how do you feel? does it matter? of course it matters means you're alive and you haven't given up who sent you? her name is ceridian and my hands and words are hers beyond that don't burden yourself sir hadin this little seeker who asked you to find me is she scots or something? it's ceridian she's too old to be from anywhere in particular and while yes i found you she told me where to look this nightmare how it spoke how it tore right through i've never seen the like of it few have fewer have lived to tell of it what drew such a powerful spirit here? who knows something awful i don't doubt the worst angers rise from the most terrible wrongs a friend said that he was trying to warn us an immutable law you have wise friends what am i to do now? how do i how do i do it alone? you're not alone have faith if ceridian had told me more i'd tell you it but you must have faith have faith you say that you do not know me easy said what comes easy in life tends not to matter it's the hard stuff that counts you have a hole in you a yawning grimacing pit in your soul that's love that is the hole won't fill because the love won't die god all my time here's the thing unlike most you get a second chance and that's why i need to see you and that's why i need to see you why do you pull me from the water what's your business with me i have no business with you but my mistress does ceridian says the wall between the living and the dead is under threat you it seems have a part to play this is mine you've lost me no i found you but so did your grief and it demands to be felt you may think you're done with your ghosts red mccraith but they aren't done with you i'll go now rest why ever my mistress saves you she has good reasons the best where are you going oh to ceridian she needs me where shall i find you if or when i need to mya marshes great big swamps other side of the woods you can't miss them we'll know when you're coming until we meet again then that's right banisher now turn around what? i'm leaving what the hell? porteri magici ho qualche portale come cazzo ha fatto smadire lo scopriremo come cazzo ha fatto smadire ok come cazzo ha fatto smadire bucca non ho fatto smadire non ho fatto smadire come cazzo ha fatto smadire ciao marco ciao simon tutto quella roba parlata era solo il prologo ad essere iniziato il vero gioco normale ci mancava che sassavi tre ore così sì ma figo il combattimento che finisce il prologo inizia il gioco vero sti cazzi poi guardati l'inizio della live vai al combattimento sti cazzi quando quando l'ho finita alle 12 che rimane che la pubblica anche su youtube della terra giro adesso dei rati switch è uguale puoi tornare indietro non mi ricordo non mi sa che mentre sono in live non puoi tornare indietro una volta che è finita che mi rimane di salvata si non mi ricordo come funziona comunque sto in live quindi se vuoi prova posso provare dopo che hai finito la live si 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 no perché se veramente era tutto così non so se l'avrei portato tutto e ti dico la verità è figa era di più di quello che stavamo parlando ieri ok va bene parlare ma figa ogni tre secondi parla con questo parla con questo parla con questo e cazzo con questo vabbè sai che per fare la live io gioco da pc faccio la sin da pc gioco e sto giocando lì e vedo le differenze di grafica tra ps 5 e il pc perché ci ho acceso la tv e lo vedo anche se la 5 ha una grafica pazzesca non c'è paragone su pc mi cambia totalmente meglio specchio e figa si va bene ma che schede grafica c'è sotto però m quello sicuramente già sotto una 4000 ci sta lì e che ci sta tra 5 onestamente non so cosa monti perché comunque figa anche la 5 però lo vedo proprio la differenza di grafica io da un lato l'ho sempre detto che il computer è meglio dai come si vabbè però per avere sta roba ci ho speso 2000 euro sì 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 non lo metto in dubbio chiaro già prendendo la 5 fai un salto di qualità pazzesca niente da dire perché non tutti hanno stessi soldi ma neanche io ce li avevo l'ho fatto lo sai perché volevo qualcosa di figlio cosa cosa è come faccio la riuscita a quello come raggiunto ah no è solo una lanta Oh fly Dammit What am I doing here? Eh, ti ha salvato Ma non si sa dove stiamo Posso cassare in acqua? Sì, posso cassare Questa è Sì, si va di qua E andrà di qua Andiamo giusto Vabbè ma che pirla, c'ho la mappa perché non la guardi Ambo Ah però si può imparare quella che ci avevo prima Ah no, sti cazzi dove sono finito dal combattimento Quindi è un altro world Sembrerebbe È tipo Quello che parlavamo ieri Mi sta Tanto Se for spoken Tipo aloi Così non è proprio Dalla fine Sì sì Ok Cioè non è c'è una via Come God of War Cioè quello è il percorso Quello devi seguire Allora per il momento C'è il percorso da seguire Perché Ma mi ha detto di trovarla via Quindi Sto seguendo quelle Non posso esplorare quello che c'ho intorno Ma non posso andare oltre Quindi dovrò vedere dopo Capito Lo combattro anche contro lupi Allora Indicatore di minaccia Indicatore di minaccia Individi Non visibili Rossa Attacco incombente Arancione Proviate L'inconvente Verde Possessione Esti cazzi Mi devo ricordare anche i colori Ma Ok Oh livello 2 Un punto abilità Oh adesso mi si è aperto Anche l'albero delle abilità No Ma dato un punto Ma l'evoluzione Ce l'ho ancora bloccato Quindi dovrò arrivare A qualcosa Che ne me lo sblocca O O qualcuno Che mi apre il potenziamento Come al solito Sono già dimenticati i colori Che mi ha detto Fai te So solo che Di rosso Arancione e verde Va bene così Ok Vabbè Impotente comunque Che Ti ricordo Almeno quali sono i colori Poi col gioco Con il tempo Ti Ti abituerai Ma per forza Ah no 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 Allora Di lì dovrò andare sicuro Allora io prima guardo Cosa c'è di qua Stavo lasciando uno scrigno Sapevo io Lo fanno apposta Stronzi Sempre esplorare Marco insegno Marco insegna Mi manca solo l'ultimo stronzo Red di merda L'altro giorno Ammazzato la vattiglia Grande Mi manca solo l'ultimo red Cazzo che dovrebbe dare L'ultimo componente Per creare L'ultimo L'ultima elsa E' tutto E' tutto Prattinato il gioco No Non hai patinato Sì Quello principale Poi c'è il dlc Il gioco base E' platinato Il dlc Non ho ancora neanche Toccato Vedi tu Ma è il gioco base Mancano ancora le due cosine E' ho platinato il gioco Cosa sta succedendo? Occa puttana Puttaninen Cosa? Cosa facciamo qualcosa lì? Natia? Sì 14 Sì Livello 3 Eh Io purtroppo Non l'ho platinato Perché Te l'ho detto Mi è uscito un botto Di giochi Quando l'ho fatto Quindi Ciao Come è Tu ci puoi stare Nel frattempo Che giocava a God of War Giocavo anche a altro Mh Sì Sì Perché passate Wanda Mi sono venuto Soda lì Di qua Vai Soda lì 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 wow non ha tolto il musetto è qua dove dorme, non so se la vedi là dietro di me no, me lo sto guardando, stiamo facendo le cose che poi oggi faccio mezza giornata ah, poi andate via oggi vado via oggi dove vai di bello a cercare il vestito quindi ho delle cose da fare che devo farle oggi quindi sto lavorando in mente ascolto però non sto guardando ieri guardavo, oggi non riesco si, tranquillo oh cazzo ah beh è livello 2 no, non te blocca oh cazzo guardi là e allora andiamo di oh eccolo lì right here I love right here is you no tui i have you you have me no, don't go I'm here follow me where are you I'm right here, where are you? You seem weak, he needs... Rest. I feel hollow. Do not be troubled. How can I not be to have lost you and found you like this? And you're hungry. That's one way to say it, yes. What can I do? Okay. Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence lies upon it. For now, it will dim me. It's the same thing... Mi piace sempre di più Mi sta piacendo Sto guardando un video Cosa? Non è vero Non è vero Non è vero I'm glad you're here I'm glad you're back Truly The living should not truck with the dead I've known that since childhood I learned the hard way You never told me that What happened? It was a lifetime ago For now It doesn't matter Come at his head How are you feeling? Poi la cosa figa È che tu scegli le risposte In base va alla storia Ah beh è buono After the nightmare killed you She helped me A moment longer She mocked me And she let me fall I waited for the rocks to claim me But instead I hit the sea Part of me wished to embrace it I think I felt you at this point I remember the despair in your voice I called to you For a long time Struggled in the waves Till the tide brought us home I woke up in a cave And rescued by a young woman Named Seeker A witch's apprentice She was proud to tell me that Her mistress had sent her to take care of me Witches rarely show themselves Intriguing that one would help us I think we should go back to New Eden Town I agree To free me I believe we must reclaim my body I refuse to be this way I'll not abide it I'm so sorry my love How can I help? I'm a ghost You're a banisher I'll not banish you I cannot get here So you die You can't ask that of me If that's what I wanted You'd have no choice But you don't wish it do you? Not before I've had my revenge Not before I've seen the nightmare defeated By you and me both I don't know 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 In the schoolhouse He joked about bringing me back to life Is that possible? Yes The ritual of lesser palingenesis It's extremely difficult Highly dangerous I could try, right? You'd teach me And I'd bring you back Red It's an ancient ritual It requires power It consumes essence in large quantities We're talking about human sacrifice Murder Just maybe We could consider it I mean If there's the slightest chance I could bring you back I'd take it I'd take it It's a dark ritual, Red It's tempting And that's dangerous To think of being back in your arms I'm tempted too I'm tempted to shoot I'll just go To think of the house I've been to the house And that's could be Ah! Oh, per la fine... Oh, il bacone e i monetti da davanti alla porta... Ma che... bello ci sono anche allora tu sei nel curatore che praticamente mandi fantasmi nell'albi in più ci sono anche le streghe ok ho ma sbloccato le rivelazioni allora rivelazioni consentire a red e di vedere figata 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 questo potenziamenti posso scegliere allora questa cosa fa il quarto attacco pesante innesca un attacco con pugno che non ha la resistenza 1 2 3 ah praticamente viene fuori antea ok il numero massimo di cariche dei decotti che non so cosa sia c'è se un nemico col picco dell'attacco realmente i danni degli stessi del 10 per cento quando può essere accomodato per vedere dopo aver servito un colpo i danni del prossimo attacco pesante sono aumentati del 200 per cento dopo aver ripurato un nemico eh cosa metto facciamo queste e queste intanto a posto sapevo io che il primo potenziamento oltre doveva sbloccare qualcuno come al solito vabbè lei non ha più due euro bisogna di dormire ah anche aqui figata nelle rifugi puoi migliorare l'attrezzatura Allora Cariche 3 di 3 Riposati Evoluzione Ah c'è anche il viaggio rapido Ottimo tipo Aloy Inventare Posso spostarmi da un punto all'altro Quindi si è un open Mi sa tanto che è un open world Migliorare l'attrezzatura Ne potenzia i bonus Ma richiede risorse Puoi accedere al menu Al menu migliore Spostando il cursore sullo slot L'attrezzatura e premendo quadrato Ok E ora vado a staccare qualche minuto Vai vai I danni d'attacco D'ammischia aumentati del 5% I danni del quarto attacco Leggero e pesante sono aumentati del 50% Non miglioriamo questa Ah beh Miglioriamo questa Polvere spettrale Ne ho risorse insufficienti Non si può Danni subiti ridotti del 5% Danni ridotti del 5% Non è vero che posso migliorarlo Ah si Perché? Ah Ok Quelli che posso migliorare Hanno la precettina gialla Ne facciamo questa Intanto Migliorare Potenziali Illimita Possiamo che questo sia Forza saggezza Vitalità Oh Amica Buono 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 A posto Ah dopo c'hai il fucile Polsiera Spilla E un muletto Quindi dopo troverai anche I vestiti in giro Sono tutti gli oggetti che ho Va bene L'evoluzione Qua tutti i viaggi Rapido Grotta delle cascate Scoperta Tu rimani qua Tu sei un fantasma Quella dove cazzo Te pare Adesso ho sbloccato Ok Cronac Completato E la maronna Aspetta Altta 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 La fine del mondo Ah vabbè Non ti fa vedere Quante cose ci sono Da fare Provisions Going for the basics We'll manage Together What the hell Happened here Il rituale Sti cazzi Dispezione Quattori Ah quello là strengthen Durante Dunque Qui abbiamo Qui Che Oh Pedighe C'è Oh 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 ח il 18 settembre vedete i simboli sulla palla? no prendi la mia mano io voglio provare qualcosa prima voglio spezzare una squadra sono dei demonologisti e dei rituali di sciabbi prendiamoli la mano ma cosa devo fare? triangolo cazzo che figata io tramite lei vedo le altre cose allora premi per rimuovere le tele spettrali e rivelai oggetti e luoghi celati ci sono cose che dovremmo perdere i morti rivela più da vivere che pensavamo questo va a essere aiutato ma che gran figata che gran figata per me non posso farlo quando ci sarà lei che adesso se lo voglio rifare non posso basta premere triangolo ok figo cazzo non è solo io o no? ho sentito anche bello cazzo quindi quando mi si mettono gli enerzi si accendono devo chiamare Antea, perfetto cazzo, sto cane l'ho lanciato via l'ho lanciato Antea in combattimento per eseguire un attacco con pugno che infligge danni aumentati ai cadavri costituti attaccare con Antea, consuma spiriti di rigenerale e attacco correddo ok che gran figata che cos'è l'unità? che cos'è l'unità? che cos'è l'unità? Grazie. Grazie. Picking up something spectral nearby. Piss off! Water's locked in here. Time to work, banisher. Oh, che cazzo, non l'avrei trovata. Oh, che cazzo, non l'avrei trovata. Aspetta, Luna. Scusa, Luna. Un secondo, ragazzi. Luna, c'ha le orecchiette lunghe. E si incastrano dentro le... Il posto, Luna? Tranquilla. Tranquilla. Ok. Vai. They always end up mucking around with black magic. Always. Dai, Luna. Grazie. Mi dici grazie? Dai, Luna. Vanno a pescare un po'. Luna, brava. Oh, è una figata assurda, Marco. Praticamente, adesso, quando tu combatti, hai anche lo spirito di lei e puoi passare da lui a lei come vuoi e ti dà una mano. E in più lei ti fa vedere tutti gli oggetti nascosti che puoi vedere solo nel mondo dei fantasmi. Sì, sì. È una figata. Ottimo. Invece abbiamo terminato Hogwarts noi. Scaricati questo. Ti diverti. Allora, l'inizio è un po' palloso, però mi cresce salita da piacere. Ci sono ancora un sacco di cose da fare di là. Di secondarie e quant'altro. È ancora lunga. La storia è finita. È finita. Adesso vanno a fare tutto io, ragazzi. Questa è un batterito, no? Adesso. Bravo. Trova la strada e la foresta, ok. Ok. Perché mi appari te? Ah, perché qua posso potenziare? No. Perché qua appari? Non c'è niente. Boh. Mi appare lei qua davanti a me. Ah, ma perché lei ti segue comunque, ok. Che cosa c'è? Ah, sarà del cuore. Oh, oddio. Allora, lo spettro diverte verso il cadavere. Dove cacchio? Possessione e interruzione. Gli spettri potrebbero tentare di possedere i cadaveri. Può interrompere una pos... Possessione? Attaccando lo spettro prima che raggiunga... Ah, ok. Praticamente, possono anche possedere. Figata. Mi piace, mi piace. Good. Watch out. Oh, no. No, no. No, no. No, no! No, no. No, no. The whole region's crawling with spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the Vale to be so thin? War, invasion. Or colonization of a land that's vulnerable to hunting. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Oh. Ok. Oh, no. I gotta go. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to. For both of us. Ok. Gina cos'è il pazzo time? Nooo cosa fa papà? Heheheheh Che tchuella che raguina Anthea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us banishers. What if they had talent or training? No, they wouldn't have been a coach. It's a big deal. My dad is a great deal. My dad is a great deal. I have to speak to them. le trappose l'antia le cunezze sono spettatori spero che si vengono incolpare i vivi i stronti questi stronti i 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 Over there. Signs of civilisation. L'accomo me. Nice place. Lose e spectre's assigned. Don't you have wolves and spectre's in the highlands? I bet ours of the courtesy of letting me catch my breath before the fight. Torn. Al momento non possedì una manifestazione necessaria per sbloccare questo sentiero. Simili staccano e vengono contrassegnati sulla tua mappa o bussola dove poter ritornare in seguito. Quindi. Ho altri poteri. Ottimo. E dopo viene. Quindi mi vengono sbloccare. Rassegnati sulla mappa. Fa vedere. Ah ok. Ok ok. Quindi questo. Viaggio rapido. Viaggio rapido. Grotta. Ah ho saltato una grotta dove mi dice che c'era. Non ho completato. Ah ho completato. Questa dove c'era qui ha? Completato. Ok. Mi dice che ho già fatto. Ok. Ok. Prima per passare davanti Quindi con Antea devo passare di qua Sì Me lo può fare Antea? Perché non me lo fa Antea? Ah perché devo andare di qua? La fine del mondo, missione completata, ok Fafamare i carciatori, missione iniziata Oh cazzo, vabbè lì Però questo è diverso, non ho visto niente Hey, that's your face Rivello 4, contabilità, ok Luna dai Cos'hai da piangere? Aspetta che vado a vedere cosa vuole Il cane Sì Dai I'm ready to win Gianni Dai Tu Bravo Tu Tu Pronto? Sì Mi dica Pubblicità de merda Che mi ha chiamato Comunque Luna voleva la pallina Ah ecco Dammi la pallina Dammi la pallina Ehm Ehm Patata C'è qualcuno inside C'è qualcuno.. Qualcuno è corrotta Vediamo chi è corrotta E' però perchè non mi fai vedere il tuore LUNA! Luna! video, vediamo Ben, sei tornato Beg pardon I thought you were someone else You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share Kind of you to offer, lad, but no, thank you Been a while since I've seen another human's face You come from camp You, uh, hunter? Of sorts Red McCreth I'm a banisher Liking the stories Jacob Lind I'm a trapper That's a real job Yeah, Ben, he's a little guy What are you doing here? How do you know we're safer? The woods are kind to them as knows them We hunt here When we get pelts and meat We trade in New Eden But game's been scarce We've not a trade So we wait When even the wolves are starving You know it's gonna be a bad winter How long have you been out here alone? To know I use track And I'm not alone God is with me in the scriptures Would you like me to read? Benia Benia Another time, perhaps You're exhausted Unsurprising given how tainted are these woods Are you sleeping? I don't like sleeping I see things Bright eyes in the leaves What does tainted mean? Marked by ghosts Haunted Tell me of your nightmares One nightmare Always the same one Ben has it too Would you care to share them? No 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 It is a nightmare Nothing more Who's Ben? Another trapper Aye, the best of them Taught me all I know He's out now But he'll be back When has he gone? The bridge is down As down as down can be Can't cross Bad things lurk in the shadows They scent flesh Game's low Game's low and Ben's gone He'll find game, he will I know it What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That... And the fog Can't hunt if you can't see Ben shoots better than me Knows the woods better too I'd only slow him Only slow him Though gjare So, do you read So, do you read I read the video And the others Likely, he said He said He's not good to me Cosa hai di files? No, sto zitto perché leggo I... I... Non c'è Quello che parlano Sò vedere dei video No Sì, sì Tranquillo, tranquillo Fatto che trova Mentre Oggi Oggi non ci sono molto neanche io purtroppo ormai che tutti così non li traducono i coglioni una grandissima tua palle ok scoperto il nuovo quindi a caso casi di infestazione hai avviato il tuo primo caso di infestazioni dovrà indagare sul fantasma che perseguita jacob ma non si potrà fare i cazzi sua moda la scorciata che ho apri meno case di prestazione per seguire l'indagine do you sleep here jacob ben sleeps here i don't sleep there are maggots in che schifo your meat's turning friend we might do whatever haunts the boy spawns maggots we should talk to this ben fellow ok indaga nel casano ok ha un punta b e 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 l'indagine pensi c'è e che quale c'è ei io j Ok, ho capito Fammi rispondere Angelino Un secondo Ciao Angelo Sì sì, ci sto giocando Allora all'inizio pensavo fosse palloso Perché era tutto parlato Dopo il prologo è iniziato a diventare una figata Comunque Io so anche il live Adesso lo porto tutto Lo sto portando sia su YouTube Che su Twitch Ok Non mi piace sta cosa Delle abilità Delle abilità Perché praticamente c'hai dei rami Quando sblocchi il ramo Tu hai due scelte Ma non le puoi attivare tutte e due O uno o l'altra Se scegli l'altra Automaticamente si disattiva L'altra che avevi abilitato Capito Come faccio Oh cazzo Bibbia di Giacob Bibbia di Giacob Questa è un'altra Ma non le puoi attivare 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 Ma faccio Non le puoi attivare E il caso Ben went out without a gun We're trappers Not hunters We had the gun for safety But it got down Doesn't work Scusa Come faccio Usare il cucolato Dice che Ho attivato Un fuoco Non è bene Scusa Mi sei morto Perché mi dice Posso attivare Il cucolato Come faccio Oh there to you Jacob Mr. McRae sir Farewell to you Mr. Lynn Farewell Mr. McRae sir Farewell Devo trovare un cazzo Di focolaio Forse è stata abbandonata Forse è stata abbandonata And where did his friend go? Quick mist Spun by a ghost After a violent death And assure rule number eight Don't get lost in quick mist Lest the spectres get you Wise But I see no other way Either Ben was lost in the mist Or He's the source of it You might be able to drop down from here I do love to drop into the deep unknown Can't see further than the end of my arm down there Don't worry It will affect your other senses too This quick mist is thicker than the scotch dragon And smells almost as bad Wait That's better And a little terrifying Fregata con lei I could trend the wave Just say Something's nearby Where is it? Oh, se blocca to- Oh, se blocca to- Oh, se blocca to- Who's that? Yes Something's here Something's here Something's here Ah, quindi aspetto a Capitores Tuia Allora Uè Un becilloide qua Vai a girare la montagna, vado di sopra o vado lì? Che vale, vado di sopra Non si può neanche giocare Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites Hold on, I think I can read us at the quickest Ma che figata I'm sorry, I didn't know that would happen Go away with it, let's find what caused it You mean, let's find out who died No traces of a struggle An echo hangs on it Oh my god 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 non vuole uscire non vuole giocare lo sto facendo giocare ah qua non vuole uscire non vuole uscire sono finita non ci siamo sono pepe oh io io lui ben ai non and now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him so was jacob lying to hide the mother he wouldn't be the first we need to find the body if the wolves haven't gotten there first we need to find the dead from the top from the top from the top from the top from the bottom arrivo lunina what do I do here? then we save and continue tomorrow now in the morning I know what to bring something is here hidden where? I don't see there is something I don't see what the hell is it? ah, here no, this was the spectral ah, here it is oh, shite on a short stick bloody hell the lad's been torn to pieces no, wait he's been carved with a knife for his meat still no tie a jacob's hovel, perhaps? no, 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 no it's called no but he was ...eating meat. Jacob was eating Ben. Poor, desperate, starving boys. Sometimes you must do what it takes to survive. Eh, ma va a fanculo. Si è mangiato un amico. Ecco. Ah, perché devi anche... Ci sono le secondarie. Che devi indagare su... Successe. La prima vabbè me la sono fatta giusto per vedere come... Com'è tutto. Questo si è mangiato un amico. Che culo. Sì, da io prima voglio naravigliare qua. Sì, è vicino. Sempre bene Eh, ma qua si potrebbe fare il falò Come lo faccio? Non mi dice Così si gira Allora, modalità fotografia No, no, chiudi Ah, così la cosa rapida Come faccio a creare Presso i rifugi Ma se qua c'è la cosa del bisogno del falò Potrò farlo? Così pare Scusa, eh Rivoluzione, no Cronache Cata di infestazioni Opzioni Vediamo se c'era Comandi No Menu della mappa Segui missioni Girati Modalità fotografia Manifestazione 3 Manifestazione Attacco Cambio a personaggio Usa Schiva Interagisci Non c'è come fare Allora non Come cazzo si attivano i Farò Adesso vedrò Come cazzo si attivano Lo dirà Non c'è Potremmo andare a beatere Sopranà Oh Tutto sto giro per un No, come giro a giro Prendiamo il sardino Soprattutto lo scopo Accolire UUGHH! UUGHH! Mi prea è vero mi testo, io penso che... no today i'm still here that spectre is looking for a body one less to worry about okay let's look for our tile while jacob's outside oh there's there jacob mr mccraith sir you were struggling yourself and ben why'd you not leave leave no can't leave this here is home we trap here we eat here we tamp out to leather here our lives are here can't leave did you not try the river the fog had to lift sometime and if you stay you'll starve we have enough thanks to ben ben wanted to leave you argued remember ben's out and about right now we don't argue you know one time a storm caught us napping sidelong hailstones and everything he was lost but we found our way even then ben never said a word in anger even though i slowed him down has he lost his mind or is he tricking with us i can't tell farewell to you mr lynn farewell mr mccraith sir farewell i think i found our tie come on let's talk to ben ma perché mi fa così joystick let's take care let's take care alright let's force this ghost to talk to us you're not jacob who's you my name is red mccraith scott you i suck we're banished we can help you i'm beyond help oh hai visto il salito anche un po' di livello ieri si mi sembra due o tre livelli mi sembra grazie ho fatto un po' di missioni si ma poi ieri sera un paio ne ho fatto il buio ci ho fatto anche ho fatto un po' avanti con l'altro quello della della salvezza dei bananita si si ho visto ho visto mi ha dato ieri sera mi ha dato la la copertina la copertina eh si mancava mancava l'ultima missione che era o uccide uno dei barri o ammazzare i quelli della regione quindi mancava mancava solo uno di due si 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 ti ho fatto ti ho fatto a Nisha prima il pomeriggio ti ho fatto Nisha mancava l'altra che mi hanno ammazzato quando sono sceso praticamente ha fatto il tempo prendere l'arma a sparargli ma non so come ha fatto prima lei ha fatto prima lei in tempo ad ammazzarmi vabbè 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 c'era dato ieri non giocavo per vincere giocavo giusto per fare i miei idee eh già vorrei mettere a me non lo vuoi fare gli obiettivi cazzo me ne fregava di vincere ieri poi se capitava che vincevo ben venga però non era l'obiettivo vincere e non posso andare non posso andare ho fatto un punto con le tue ieri sera madonna eva prima di andare ho fatto una partita mi ha ammazzato l'ho controllato perché era troppo strano era troppo strano e che era dietro era col cecchino dietro il muro io dietro la roccia col cecchino ho tirato fuori appena la testa per mirarlo l'ho visto che lui è uscito dal muro è riuscito a sparare e a centrarmi l'ho controllato è un citer di merda perché dopo un po' ho tirato fuori il mirino contro un altro il mirino andava per i cazzi suoi lo mirava da solo mi ha dato già i coglioni una ne ho fatta di partita ieri sera una una sono riuscito a beccario un fottuto citer di merda tolco 2 nervoso mamma mi ammazzai tutti i suoi i suoi i suoi vabbè 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 ah niente mi ha scendato e fine è stato detto che devo fare ma l'ho vabbè mi ha fatto così c'è chi mi ha tutti mentre noi non nessuno non non me banisher what did we do to deserve this this was not God's doing another powerful entity is at work here new Eden is cursed then God has forsaken us and we are doomed thank you Benedict perhaps we'll talk again perhaps we shall banisher perhaps we shall thank you Benedict Jacob must confess I feel the truth will break him he was playing well in the game so I'm still playing double oh there to you Jacob Mr. Macraith sir I'm sorry Jacob we must talk something has happened to Benedict what where is he what happened come on now Jacob if something's happened to Ben say so where is he Benedict is in pain for his sake you need to remember what happened oh my god oh my god oh my god I would never I couldn't hurt him I love him I was tired I was tired so tired so tired hunger was digging holes in me don't give in I don't have any manual yes there are there but I have to understand there is no other thing go man yet you gave up on Benedict and then you turned on him I failed him I failed Benedict I was so angry so angry so angry he kept pushing me he can't we argue and I couldn't think when I saw him lying there on the ground lifeless I never thought of what he was upset it was him or me him or me I would have died I should have died for my sins I deserve no better for my sins I deserve no better for my sins I deserve no better I failed God I failed my friend I failed my friend I'm a monster I deserve no mercy no you're just a sinner begging for help we both faced a choice simple and awful to kill or to die you struck first and here we are do you forgive me? our fights are in the hands of others now yes banisher to your job if you're to come back if we're to use the ritual we spoke of this is when it starts red if we take one step along that path Jacob is ready to die the others won't be we'll tell lies we'll harvest the essence of the living I'll shoulder the blame as the man says we face a choice simple and awful do we kill to be together again or do we part forever apri la live I've lost the sight now risoluzione hai raggiunto la risoluzione di un caso di infestazioni in quanto è purato dove devi prendere una decisione accusare l'abitante perseguito concedere l'ascesa al fantasma o purarlo ogni scelta avrà delle conseguenze in particolare nel mondo in cui red e a te le persone evolvono come capisco come via ricorda se il red e desi desi di portare a te in vita devi accusare il maggior numero di secondo me cosa fa lo accuso che lo ammazzo o mando il fantasma via lui allora lui nella storia vuole riportare in vita la sua socia che praticamente è anche la sua ragazza e per far sì devi ammazzare la gente ok ma perchè questa qua è morta? praticamente sì e per riportarla in vita c'è solo una cosa da fare sacrificare altri sì scusa questo qua per cosa è accusato ha ammazzato il suo amico e se l'è mangiato eh eh allora accusa finchia una cosa del genere si accusa se te lo sei mangiato hai aperto la live hai visto cosa sta succedendo? no no aspetta adesso la live eh guarda eh sì ho visto visto la luna mi è venuta in braccio perchè dice allora l'hanno l'ho ridotto andato l'ho ridotto andato intanto l'ho ridotto in descrizione che sto aspettando anche quando gli impazziti puoi non hai ancora capita di vincuotami fuori vai procedere ma è vero che hanno che hanno un inciso abbondiato? o sono stati no no perché io indagato è vero è vero allora uccidi allora vedi aspetta vedi Accusa Sacrifierai questa persona Con un rituale di accusa Questa decisione Contribuirà alla Ressurrezione di Antea Questo Fai ascendere Dolcemente in fantasma Attraverso il rituale di rilascio Questa decisione contribuirà All'ascesa di Antea Praticamente ammazzo anche la mia amica Quindi non puoi O la far scendere Allora in base alle scelte Che farò nella storia Se io scelgo di essere buono E tutti i fantasmi Li faccio andare via Antea muore Se io invece li accuso tutti Leggi Se l'accusi Sacrifierai questa persona Con un rituale di accuso Quindi tu qua muore Sì Questa decisione contribuirà Una risurrezione di Antea Perché il rituale di risurrezione Funziona solo Ok quindi Lo riporti in vita L'altro Guarda Vai sull'altro Questa decisione Che tu doveva fare All'ascesa di Antea Quindi tecnicamente Se li benedici tutti A benedici anche lei Quindi io voglio fare Perché a me ci saranno due finali Uno che Sei buono E fai l'ascesa E una che riporti in vita lei Quindi io scelgo di riportare in vita lei Poi questo Secondo me poi è caso per caso Se vuoi dire Che magari poi ci saranno casi In cui magari è falso Sono accuse false Quindi lo devi Ah lo può Tu dici Fai In base al caso Eh secondo me sì Perché se ti fa Se ti fa investigare Vuol dire che può essere vero Può essere falso Ipoteticamente Allora via Questo Se lo Questo accusalo Perché se è vero Che l'ha ucciso E se l'hai mangiato Accusalo Per me È da accusare Poi Ma perché non me lo fa fa Oh Fai X Eh lo sta venendo premuto Ti vibra I calciatori In caso di Di infestazione Ti vibra A destra In basso Perché vibra Aggiungi una risoluzione Eh eh Qua sono persone Diverse Quindi comunque Allora Questo è quello Che è rimasto in vita E questo è quello Che ha ucciso Beneditto è quello Che ha ucciso Amico Sì Questo è quello Che è rimasto in vita Giacobb è cattivo Io Giacobb lo fai ucciso Lo fai morire E lo scusa Beneditto Non lo fai Lo mandi in su Allora Eh no Perché uccidendo lui Mi sa che Ucciso tutte e due Adesso vedo Scusami Eh Io tengo Ma perché mi vibra Quello a fianco Non lo so Vedi Giacobb ha ucciso E consumato il suo amico Il fantasma Vuole che Dica la verità E confessi Gli atti Eh Vedi che anche lui Vi dice Eh l'ho fatto L'ha confessato Io lo voglio accusare E mi vibra Quello a fianco Io non voglio fare Questo Non so Ti farà sta cosa Di là Eh Io non vorrei Che se lo Se lo Clicco Va di Parte Cazzo Prova a cercare Su internet Come pulare C'è scritto Non capisco Perché va qui Caso di infestazione Eh ci sono già Sul caso Non mi fa fare Niente Giunge una risoluzione Eh ma se non me lo fa Cliccare Io lo voglio accusare E vibra sempre lì Non capisco Non capisco Prova a cercare Su internet Bisogna contribuare A scendere Ah beh E pura Comunque per ucciderlo Da un capito A scendere Lo fa salire E pura Comunque lo uccidi Eh ma tutte e due Vedi Ah forse prima Devo fare il fantasma Quindi lui lo faccio Lui lo faccio a scendere Ma lui è buono? Lui è buono Ha fatto Lottato Guarda Lui voleva solo Che vedi Il fantasma Di Di Benedict Vuole che Jacob Dica la verità Che Confesse gli atti Di calibalismo E l'ho fatto Lui è buono Ok Ma poi Gli altri Gli altri Indizi Niente Non servono a niente Ok E allora Eppure Il buono Eppure No Ma fai a scendere Non ho capito Se fai a scendere Cosa Se Fai a scendere Eppure A scendere Lo mandi in paradiso Eppure Lo mandi Con in penno Nell'obbrio C'è scritto Vedi A scendere Lo Fai a scendere Dolcemente Mentre Dovrai far cadere Il fantasma Nell'obbrio Eppure Quindi Qua c'è anche la scelta Di Il fantasma E a bravo E a In vita E a bravo Cattivo Oppure Il fantasma In sé E a Bravo Fantasma Cattivo Fantasma Non so Come funziona Il gioco Quindi Lui Lo faccio A scendere E l'amico Lo accuso Penso Di sì Eh Ma Vaffanculo Non posso Neanche Questo Ma Allora Eh Non lo so L'ossimo Si è bloccato Allora Non lo so Tutti Mi vibra lì Porco Di quella Non è che ti manca qualche indizio? No Fatto 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 Perché Stai fatto E arrivi a quello dorato Fai questi tre E arrivi a quello dorato Alla decisione Questo Fatti tutti e tre E arrivi alla decisione E cosa devo fare? Perché? Si mozza Cassa un internet E non posso Il telefono Ce l'ho bloccato Sulla live Qua sto a gioca E poi cosa cerco? Scusa Scusa Un altro Scusa La peggio Comunque Vabbè Preghiamo Un pochettino Comunicchiamo il gioco Banisher Banisher Grazie a tutti ah ma si è bloccato qualsiasi cosa clicco mi dice di primere il tab per me si è bloccato non ce n'è si è bloccato non mi fa fare niente mi si è bloccato il gioco tu hai trovato qualcosa sto leggendo niente si è bloccato il gioco se c'è un video mi scelta costruzione senza sentire il video potremmo investire ok ok no appunto e' no, qua, lui te ne è premuto e' fine allora mi sei bloccato il gioco a me presumo di si sono su un altro caso io si 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 te ne è premuto si illumina la scelta e poi parte e allora spengo il gioco e lo riapro sperando che mi ha salvato ah, e' partito si era bloccato quindi lui lo faccio scendere benedict stouten guarda che non si può ah, sta andando scusa in his despair your best friend stole your life then he compounded his sin he fed on your flesh confessing his sins he offered to forfeit his life he has told the truth you may go in peace we were trapped the snare was sent to kill us slow jacob my friend my only friend i forgive all i forgive everything allora il fantasma lo ho mandato gli è dolcemente ma non l'ho ucciso cazzo eh, però c'era il video che loro stavano litigando eeeh lui l'ha buttato giù dal dirupo cazzo di sua spontanea volontà l'ha spinto giù ah, perchè ha fatto di trappola ma che mi sa che una volta che hai fatto una scelta non puoi fare una scelta sull'altro anche ma vaffanculo e questo lo so spetta e vabbè ormai ma è vero questo qua seeeeeh per posto di posso uccidere? questo si ok perchè il fantasma ha parlato di una trappola? perchè dove erano finiti c'era una trappola non riuscivano più a uscire hanno litigato ok quindi non è che hanno litigato a cazzo tutto qua di ucciderlo c'era un dietro era più articolata la questione di rispostare che all'unità allora ci può stare che non l'hai ucciso questo qua è stato un gap sul somicida in questo caso diciamo ma io pensavo che potevo fare la scelta su di lui e su di oh adesso posso accendere una volta che è finito il caso posso accendere i falò così salvo allora ho fatto bene a salvarlo quindi vuol dire che lei non lo salverò mai cazzo così devo essere cattivo con tutti no in realtà leggevo che dipende sempre dal caso da caso per caso ah ok dico di dire bene cosa è successo e in base a cosa è successo fare la scelta questo frangente è vero quello lì l'ha ucciso e poi l'ha mangiato però tutto è partito dal fatto che hanno finito in trappola non è perché sto qua era cioè l'ha fatto per spravvivenza per sopravvivenza ok per sbaglio l'ha ucciso nel raptus nel raptus del momento l'ha ucciso poi per sopravvivere ha dovuto mangiarlo non è che a cazzo così no cosa facciamo zio si uccidiamo questo poi mangiamocelo quindi ci sta che l'ha salvato l'amico ci sta che l'hai salvato cioè in questo frangente c'era da capire bene cosa è successo perché cosa ha portato e perché ha portato a quella azione ok ok ho capito quindi ci saranno dei casi dove posso ucciderli per salvare lei penso di sì penso di sì sa poi comunque a te la scelta se poi comunque uccideri tutti a prescindere ci saranno due randa a fare c'era l'omicidio di tutti è buona quella poi la scelta tua però presumo da quello che ho capito vedendo che la questione è questa così già capire bene come capire cosa ha portato a determinate azioni e capire se può essere perdonato oppure se è caso se è un recidivo e quindi è probabile che lo fa di nuovo e quindi è da bozzare capito capito adesso ti conviene salvare e andare perché all'alba delle undici e mezza luna inizierà a sbranarti brava Tuglietta oh io ho lanciato la pallina l'ha intercettata è riuscita a intercettarla brava la patina mia la ha teso il balcone tranquilla tranquilla buona ho portato tutto a livello 2 ok posso portarla no ok tutto a livello 2 sì ma è morta nel prologo perché ieri mi sembrava viva qua è morta questo è fantasma eh ma dico questa qua ieri quando l'ho vista con il prete era viva è morta nel prologo sì sì è morta all'inizio della mia live i crave i crave essenza with it i'd not so fast decay with it i'd not so quickly become one of those stupid bloody spectres we made the right choice we made it together taking a life is no small matter when i ascend we'll be separated for the rest of your life maybe for the rest of eternity never again shall we stand side by side this we this thing we have shall cease to be red sta per prestare giuramento ad ante insieme sceglieremo il suo destino le scelte effettuate durante la risoluzione avranno un impatto oh cazzo ma cosa dice a prima scelta sì ma perché sei incazzata lei ha detto che dovevamo uccidere questo qua per come si è comportato eh vedi red giura di aiutare il fantasma di antea ad abbandonare specificamente questo mondo red giura che aiuterà a tornare in vita quindi devo fare due devo fare praticamente due run una la devo fare a scendere una la devo fare risurre come dicevi tu eh sì però qua qua adesso di sceglie che giuramento fargli eh la voglio riportare in giro in vita staranno allora Raffaele fai la cosa di protezione ah però vedi aspetta aspetta indipendentemente dal giuramento nella scelta nel zocco decide cosa fai poi sì sì posso decidere io però qua infatti dice eh sacrificerà sacrificare vabbè sacrificare quanti più coloni possibili sì ok però ti dico mi sembra aver capito che indipendentemente da questa scelta che adesso fai del giuramento poi in base alle scelte fai sarà una o l'altra quindi questo qua del giuramento mi sa che non è indifferente mi sa vabbè in teoria sì poi preferisci comunque fare il giuramento di risoluzione e cercare di farla risorgere ok ok eh beh vedrò durante il gioco però per intanto io la voglio far tonna in vita vai vai ok ok la riporteremo cercherò di portarla in vita praticamente incontrerò quelli che devo mai uccidere e quelli no eh sì in base a quali sanno più sì e quali più no lei tornerà in scelta o no o no o no i want us back red e finisci video che devo portar luna che mi mangia o la una promessa solenne non Buon, salviamo. Eh, oggi due ore e mezza di live me le son fatte, eh? Sì. Buon, ciao Marco Licch, sennò mi mangia il cane. Grazie a tutti. Ciao 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 a tutti.